Nel frattempo all'osservatorio... Eccolo! C'è un panda finalmente! Non lo merito! Ma sì che te lo meriti! E anche voi a casa ricordatelo sempre! Niente pellicce di animali! Mai! Proprio come fa il serpente non è così? Sì, esattamente! Bene, adesso ho capito dove si trova l'idrante! Vedrete! Io catturerò il serpente! Dici sul serio? Sul serio? Sul serio! Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Benvenuti sul lago dei pupazzi di neve! Fatto delle lacrime ghiacciate del polpo piagnucolante! È una festa invernale, i pupazzi di neve! Presto, facciamo una barbarete! E hop! Per gli animali dell'Amazzonia, Lolita ha eseguito un grande salto! Il successo è strepitoso! Ringrazia Lolita! Ringrazia! 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 Grazie a tutti.